Ancora vandalinazione al parco stazione di Isernia. Nella notte tra lunedì e martedì alcuni balordi, presumibilmente trattasi di ragazzi, si sono introdotti nell'area verde attrezzata e hanno fatto danni. Sebbene sia stata inaugurata solo da un mese, non è il primo episodio di inciviltà ai danni della struttura. Nell'occasione presi di mira la pavimentazione in legno antistante l'area skate, alcuni cimeli ferroviari che abbelliscono il parco, tra questi l'antica piattaforma girevole che, agli inizi del Novecento, serviva di invertire il senso di marcia delle locomotivi a vapore. Danneggiato anche il rubinetto della fontana, che non si chiude più. Non si tratta di danni enormi, ma non è questo il punto. Ciò che spinge a riflettere, che indigna, è il fatto che ignoti teppisti, la cui lucidità sarebbe tutta da verificare, tragano una qualche forma di piacere, dal distruggere ciò che è bello, utile e che in realtà appartiene anche a loro. La colpa è in primis dei genitori, hanno detto ai nostri microfoni, alcuni tra mamme e papà. Questa è una cosa che non deve avvenire, ovviamente, questo ci dispiace a tutti. La colpa è sempre di noi genitori, che dovremmo stare un po' più attenti a solvergliare i bambini. E non si devono fare. I figli vanno educati. Ci dobbiamo preoccupare prima. Cosa assolutamente bruttissima, anche perché per la prima volta veramente a Isernia vediamo i nostri ragazzini rinascere, veramente da quando è stata fatta quest'area in cui si possono raccogliere tutti e giocare così, senza senza pericoli e con tutto quello che potevamo desiderare. Questa cosa fa veramente disturba tanto. Spero che tutti possano capire che assolutamente dobbiamo sapercela tenere. A confortare ci mancherebbe il fatto che la maggioranza dei giovani condanni fermamente tali atti di inciviltà. Sono episodi dei quali sono dispiaciuto e soprattutto noi giovani dovremmo avere rispetto e prendere l'iniziativa, diciamo. Io penso che anche se siamo molto giovani dobbiamo rispettare questo parco perché è un bene comune. Un bene comune da preservare e da amare dunque. La speranza? Quella di non dover più essere costretti a raccontare di simili episodi, trionfo di inciviltà e stupidità, ma forse siamo troppo ottimisti.